Diciamo che sono abbastanza avanti come lavori, sì. Il ponte provvisorio che permetterà successivamente di liberare il traffico su Ponte Buriano è quasi ultimato. Mi sembra una cosa molto più importante diciamo a livello archeologico e a livello pedonale, è un ponte romantico per me. Sono infatti conclusi gli interventi di messa a dimora dell'infrastruttura, il collegamento è così pronto per essere asfaltato. Il ponte Bis si trova a Monte dell'attraversamento romanico, l'opera è costata 1,6 milioni di euro, fondi sviluppo e coesione assegnati attraverso l'intervento diretto del Ministero. In fase di realizzazione anche le opere della nuova viabilità che modificheranno il tracciato della Sette Ponti nel tratto prossimo all'Arno. La consegna dei lavori del ponte provvisorio alla provincia di Arezzo, ente committente, è fissata per il prossimo 5 ottobre. Avrebbero dovuto farlo cent'anni fa quello di aiutarlo al traffico senza ombre di dubbio. Spero che il ponte provvisorio di là rimanga, sia provvisorio realmente, non rimanga per secoli anche quell'altro. A questo mi auguro. Si tratta di un'opera provvisoria utile alla realizzazione dell'attraversamento definitivo per un impegno di spesa che invece ammonterebbe 21 milioni di euro, stando alle carte presentate dallo studio incaricato della sua progettazione. Entro la fine dell'anno la struttura provvisoria verrà collaudata.